E' alla questa bellissima edizione dell'International Show qui a Fomoderno e vi incontriamo Roberto che si stende nella genesis intero. Allora, Roberto, noi con Italia Nusta andiamo in giro a raccontare quelle che sono le nostre eccellenze, le eccellenze italiane nel mondo e tu veramente rappresenti un imprenditore che con la sua forza e la sua determinazione ha creduto, ci ha creduto che oggi veramente può parlare del suo successo. Di cosa vi occupate? Ok, innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità e per le sue parole che ha avuto per quello che facciamo. Noi diciamo che siamo un'area d'acqua in questa zona degli Stati Uniti nel sud della Florida e ci occupiamo di interni, di allenamenti, principalmente di yachts, ma anche residenziali. Diciamo che negli ultimi venti anni abbiamo riluppato questa azienda, siamo partiti con un po' impegati, ora abbiamo una fabbrica con i bagnali più moderni, anche nel controllo numerico e facciamo dei progetti importanti. Abbiamo fatto gli intendi per l'invaliazione privata, per noi ho un privato di canale, che è un 90 metri, un 5 coni, che è stato spettato per anni fatti a Florida e sicuramente siamo impegnati a fare altri intendi sempre per cantieri qua nei Stati Uniti. Stiamo facendo anche un attimo a New York, una mannata, è molto importante, è un attimo che è stato usato anche nella serie televisiva video. Ma ecco, la caratteristica che ci distingue rispetto agli altri componenti che abbiamo qua nella zona è che abbiamo avuto avanti tutto la nostra, diciamo, italianità. La differenza la fanno chiaramente questi artigiani che abbiamo avuto, la fortuna e la capacità di portare qua nei Stati Uniti e tutti gli ingredienti, con le green card, i visti e tutto quello che era necessario. Quindi praticamente noi oggi ci utilizziamo come, diciamo, lo slogan che usiamo è quello che facciamo in termico, quindi in America, da italiani. Perché infatti la nostra azienda ha un mix di dipendenti italiani e locali, ma diciamo quelli italiani che lo occupano i loro principali. Grazie a tutti.